È un vero Matthew del Tubo solo se ha la garanzia da autenticità e qualità di questo logo presente al di sotto del video. Non accettate i falsi. Esigete sempre e solo videomontaggi originali, il Matthew del Tubo. Ok, 3, 2, 1, let's jam. 3, 2, 1, let's jam. È vero. Scusami. No, perché vedevo, infatti, ho visto una cosa così. Ah, caputane. Ha funzionato. È andata? Ha funzionato la gang. Ha funzionato la gang. Un colpo alle spalle e muoio io di infarto e Simone. Simo è arrivato, Simo. Lo stai facendo, Karim? Niente. Guarda lo stelt, Simo. Guarda lo stelt. Vaffanculo. È tipo una delle sette meraviglie del mondo. Tu la vedi e i tuoi amici te la descrivono. Noi ti dicono, guarda che le piramidi. Guarda che le piramidi, dicevo. Toglie tutte le consonanti. Cos'è quest'acqua qui? Cos'è? Questo è l'anitra bc, eh? Questo qua. Mi sembra uno di quelle semplici. Che paura! Che spa... Bastardo. La spalla è completamente sfasciata ormai. Devo andare a farmi qualche massaggio con un happy ending. Il ragnetto che adoro c'è. Adoro. Adoro. Sta succedendo. Non l'ho capita, però. Non l'ho capita, questa. Wow. Che frataglia. Come si è venuta in arrivo? Oh, la mia! Un po' di prevision. Ah, era qui. Pronto? Esatto. Apriamo le telefonate. Salve. Pronto? Posso chiederle se mi lascerà? Aspetti che vediamo le carte. È uscito il cavallo senza testa. È positivo, signora. È positivo. È positivo? È positivo. Staremo assieme per sempre. Per sempre, per sempre. Arrivederla, eh? Ma guarda qui! Ma che disastro, che disastro! Ce la si è anche amata bene, anche... Se mi... Non si può avere delle tempistiche, ma neanche se me la fossi preparata in video. È uno sketch di un video, questo. Non è neanche una live del cazzo, questa qui. Ma che cosa di rosario? Cazzo! Che paura! Che diamo la porta che fa aria. Non avete capito? Perché c'è il muro spaccato, amici! Cazzo! Andiamo io. È morto a rambe. Dai. È paranoia, è finita? Coglione! Dai! Scappa da lì! Prendilo subito. Hai nove... Oh! Ottimo! Vediamo. Ho toccato la cacca dietro. No! Sai chi sono? Sono il mago Casanova! Porca troia! No! Ho fatto il mago Casanova! Sono in pigiama. No, Emma. Che cazzo? Gatto! Bello! Bravo! Carimosa! Carimosa! E pioggia negli inverni miei, riscaldati dal calore di una petone day. Se mi vuoi, domani sarà un cazzo nel culo. No, non credo. Nella notte! Nella notte! Wow! I due nomi nella notte sono fari che risplendono e il bene e il male accendono. Wow! Un ritardo di sei giorni che non sai se dirlo a lui. Scusami, Simone. Scusami, Simone. Le avete già, stella prendo in prima. E gira tutt'intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la panza, mentre si danza. Carimosa! Che strani piani in ste partite? C'erano i piani solo di sfere nere. Vabbè. Nere! Che non c'è tempo, non c'è spazio, ma nessuno capirà. Puoi riman... Come te la cavi a disegnare, benino? Come te la cavi a disegnare? Cosa le piante? Bene, allora vieni qui e fammi un po' un pino. Scusami. E niente, si è frizzato tutto. E quindi? Quindi come facciamo? Si è frizzato tutto tranne le donazioni? Daie. Daie, così bloccata? Guarda, che tristezza è. Facciamo il gameplay così oggi? Così va bene? Posso lasciare così, eh? E qua... Eh qua non ce l'abbiamo. Niente. Non so, aspetta. Niente. Ma porca di una put... Regalatela dai, dai, dai. Oh, mi sono. Cosa sta succedendo? Esco da te! Ma cos'è subito? Ma non dire frasi. E tra l'altro, sono sicuro che ci sia ancora... Mettete la sua... Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere. No, non ho seguito la live col presidente Mattarella. Cosa ha fatto? Ha fatto Isaac? Vai. Ero convinto... Che ribalzasse la granata, amici. Ora ha degli attacchi epilettici. E non ho neanche... Guarda che... Che bravo! Ma è stato anche il medico. Cosa posso... Come è morto? Ah, grazie, grazie. Lei è... E non ci sono armi. Se esiste una colazione leggera ma invitante in grado di soddisfare la mia voglia di leggerezza e golosità. Secondo me no e rischi pure di morire. Un bel ca... Allora... Questo già è con Pikachu che devi mettere? Ci metti Pichu e Raichu ma chi se ne frega. Quello che volevo farvi vedere ho detto ne prendo un altro. Ho visto che c'è quello con Squirtle, War Tartle e Blastoise. Vorrei contare con voi quanti problemi ha questa scatola. Siete pronti? Ok. Allora... Non sono Squirtle, War Tartle e Blastoise. Sono Squirtle, War Tartle e Charizard. Sono capovolti. Sono capovolti. E non l'ho aperta. Io l'ho portata così da stamattina. Con Charizard che non ha le ali. Ha un buco nel culo. Però non ha le ali. Non ha le ali. Sono io perché sono bold. De puttane. E' un mango incastrato nella gola. Pensa al tuo. A tu di cosa? Di mango? Certo. C'è quell'affare che ti permette di grattare via la pelle morta dei piedi e poi con un cassettino lo svuoti sul tavolo. Lo fa vedere. O sugli spaghetti. Sai che begli scherzo? Fate quello scherzo. Metti la pelle morta del cassettino di questo affare negli spaghetti di tua mamma. Quello è uno scherzo che vorrei veder fatto. Ma hanno sbagliato. Guardate qui. Sì, che qua l'acqua si divide. Guarda che c'è il taglio. Che fastidio. No, no, dai. Guarda Karim, sono Noè. Ma che Noè, sei Mosè al massimo. Che Noè. Coglione. Qual era il cannone, Karim? Guarda, io ho usato quello lì sulla torreta. Ho visto uno squalò morire d'infarto per un attimo. Intanto qua è tutto un gioco per caccia... Io sono stato in ufficio fino alle dieci. No, non è vero, alle sei. Ho finito. Sofiteir! No, non è vero, alle sei.